Salve a tutti, sono il dottor Salvatore Buono, sono il direttore dell'unità operativa complessa di anestesia, reanimazione e terapia intensiva del presidio ospedaliero CTO di Napoli, dell'azienda dei Coldi e sono qui a presentarvi i risultati di questo sondaggio, di questa survey sul trattamento nutrizionale del paziente critico affetto da Covid-19. È un sondaggio che è stato portato avanti dalla nostra società scientifica, supportato dalla ditta Fresenius che ringrazio per notevole impegno che stanno approfondendo entrambi nella diffusione della cultura della nutrizione artificiale nel nostro ambiente. La necessità di questo sondaggio è nata da un articolo recentemente pubblicato su Clinical Nutrition nel 2021 che ha messo in evidenza come nei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle nostre terapie intensive una buona percentuale, quasi il 30% di questi pazienti andava incontro a una perdita di peso maggiore del 5% e più della metà era a rischio di malnutrizione. Questo è legato al fatto che il paziente affetto da Covid-19 è caratterizzato da una marcata infiammazione sistemica un po' come tutti i nostri pazienti, un notevole ipercatabolismo proteico e un aumentato di spendi energetico indotto da febbre e dall'accresciuto lavoro ventilatorio. Sappiamo tutti che molti di questi pazienti prima di arrivare in terapia intensiva sono soggetti a un periodo di ventilazione non invasiva, stressato dal punto di vista respiratorio e tutti questi fattori fanno sì che siano esposti a un elevato rischio di IQ acquired weakness, cioè di una debolezza acquisita in terapia intensiva. Un altro aspetto importante è la durata del ricovero, questi pazienti vanno incontro a un ricovero prolungato per cui la qualcosa rende la nutrizione artificiale di importanza vitale. Tutti questi fattori, come abbiamo detto, questa premessa, quindi la malnutrizione proteico-calorica del presente critico affetto è ed è stata una delle problematiche più importanti da affrontare durante la prima e la seconda ondata pandemica. Ed ecco quindi che si è sentito la necessità di fare un bilancio su questo tipo di esperienza cercando di mettere in luce come sia stata identificata la malnutrizione, come sia stata affrontata dal punto di vista nutrizionale e quale sia stato l'impatto sull'attività funzionale di questi pazienti dopo il ricovero in terapia intensiva. Bene, al sondaggio hanno partecipato 545 colleghi, li abbiamo distribuiti per macro aree geografiche, nord, centro e sud, come vedete dalle colonnine. Il 68% di questi colleghi avevano un'anzianità lavorativa compresa tra 1 e 20 anni e l'età media è stata di 43 anni. Per quanto riguarda la tipologia di aziende, di ospedali che hanno partecipato, vediamo come l'85% dei partecipanti lavora in aziende ospedalieri o in aziende ospedalieri universitari. Un dato molto importante che ci ha soddisfatto in maniera importante è che il 92% degli intervistati ha dichiarato che la nutrizione artificiale nelle loro terapie intensive viene ancora gestita dagli anestesi stereanimatori, il che significa che la nutrizione artificiale è ancora appannaggio della nostra categoria e non, come avviene in alcune strutture affidata ai servizi di dietetica. Per quanto riguarda l'identificazione della malnutrizione abbiamo chiesto ai rispondenti di indicare quali parametri utilizzassero per identificare una malnutrizione o uno stato di nutrizione. Abbiamo chiesto se utilizzassero il BMI, il peso degli score, quali il NutriX score o l'NRS e le linee guida ESPEN. Il risultato anche qui è stato incoraggiante, nel senso che buona parte degli intervistati hanno dichiarato di utilizzare i criteri delle linee guida ESPEN e una notevolissima parte degli intervistati hanno dichiarato che la valutazione del peso ha un ruolo fondamentale, soprattutto tra gli specialisti tra i 40 e i 55 anni. Come vedete il p-value è statisticamente significativo. Alla domanda come determini i fabbisogni energetici, anche qui è stato un risultato incoraggiante perché abbiamo chiesto se utilizzassero la calorimetria ed è il risultato quello meno utilizzato come sistema, ma questo c'era da aspettarselo, anche se nel sud, come vedete nel riquadro rosso, è maggiormente interessata. Poi abbiamo chiesto se utilizzassero le formule oppure i criteri delle linee guida ESPEN e vediamo come il risultato propende per le linee guida ESPEN in quanto sappiamo benissimo che le formule, anche qui il p-value è statisticamente significativo e sappiamo bene che le formule purtroppo non corrispondono molto spesso alla realtà o danno dei valori non realistici. Bene, il monitoraggio. Per quanto riguarda il monitoraggio abbiamo chiesto se i colleghi eseguissero un bilancio azotato quotidiano. Una buona percentuale, il 35% ha risposto di no, però il 50% ha risposto che lo esegue anche se non giornalmente. e oltre all'85% censite, quindi il risultato finale è che nell'85% delle uti censite non effettua un bilancio calorico azotato giornalmente. Nella valutazione invece del patrimonio muscolare del paziente vediamo che l'azoto urinario è lo strumento maggiormente utilizzato dagli anestesisti italiani per la valutazione di questo patrimonio muscolare, molto importante soprattutto nella valutazione funzionale post dimissioni e questa valutazione del patrimonio muscolare si è vista essere come vediamo sulla destra con un p-value significativo e sembra esserci una maggiore propensione tra gli anestesisti rianimatori over 55. Il timing, anche qui c'è stato un bel risultato in quanto alla domanda a che distanza dalla stabilizzazione del paziente critico inizi un trattamento nutrizionale dando come risposte 0,24 ore, 24, 48 o oltre di 48 vediamo come il 53% degli intervistati avvia la nutrizione artificiale entro le prime 24 ore dalla stabilizzazione del paziente. Il 41% invece avvia la nutrizione artificiale entro le prime 48 ore dalla stabilizzazione del paziente e nelle macro aree del nord c'è stata una maggiore propensione all'inizio della nutrizione artificiale nelle prime 24 ore come viene suggerito dalle linee guida ESPEN, dalle linee guida europee. Altra domanda interessante e con dato un esito decisamente positivo è quanto tempo impieghi a raggiungere il target dall'ingresso del paziente? Bene, in questo caso non si è riscontrata differenza tra i pazienti covid positivi e covid negativi e in entrambi i casi il target per il 70% e il 77% rispettivamente il target viene raggiunto entro 4-7 giorni, anche questo in accordo con le indicazioni delle linee guida ESPEN. La via di somministrazione, il 65% dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare la nutrizione interale come via di somministrazione della terapia nutrizionale per il raggiungimento del target calorico azotato e si è evidenziata una differenza tra nord e sud nella scelta dell'approccio nutrizionale. Nel nord si è riscontrato un 72% di rispondenti che utilizzano la nutrizione interale e al sud il valore è stato un po' più basso, il 52%, mentre la nutrizione parenterale totale è il 10% e la missa 42%, quindi nel sud c'è stata una maggiore prevalenza rispetto al nord, ma comunque il risultato positivo visto che il 52% comunque predilige la nutrizione interale. Il timing della terapia, confronto tra l'avvio della nutrizione artificiale e vie di somministrazione utilizzate, abbiamo visto che il 55% degli intervistati avvia la nutrizione parenterale entro le 25-48 ore e il 58% la nutrizione interale entro le 24 ore. Anche questo coincide con quello che viene suggerito dalle linee guida ESPEN e proprio la nutrizione parenterale, come ben sappiamo, deve essere iniziata non eccessivamente in maniera precoce. Gestione della terapia nutrizionale. Abbiamo domandato ai intervistati come si comportano in caso di intolleranza alla nutrizione enterale. Abbiamo suggerito come risposta parenterale di supporto, parenterale totale, parenterale procinetico, procinetici a prescindere dal ristagno gastrico, procinetici condizionati dal ristagno gastrico e post-pilorica. Bene, il 40% ha risposto che utilizzano procinetici condizionati dal ristagno gastrico. Anche qua, a seconda dell'età, c'è stata qualche piccola differenza. I colleghi, compresi tra i 40 e i 45 anni, prediligono associazioni di nutrizione parenterale più procinetici. Under 40 prediligono l'uso di procinetici condizionati dal ristagno gastrico. Gli anestesi over 55 rispetto alle altre fasce d'età utilizzano la nutrizione parenterale di supporto e questo evidenzia forse una maggiore attenzione da parte dei giovani a quelle che sono le indicazioni delle linee guida. Strumenti adoperati nell'ottico raggiungimento del target in caso di intolleranza sempre della nutrizione interale, questi invece abbiamo fatto la differenza fra aree geografiche di appartenenza. Al sud e al centro c'è un maggiore utilizzo della nutrizione parenterale di supporto con un P-value statisticamente significativo. Per quanto riguarda il tipo di diete, anche qui c'è una differenza statisticamente significativa, come vedete dal valore del P-test e abbiamo chiesto quali fossero le diete prescritte al paziente Covid durante la prima settimana in terapia intensiva. Il 57% ha dichiarato di utilizzare una dieta standard, il 34% una dieta con formulazione specialistica e l'8% un indifferente. Nella macroarea del sud è stata registrata una preferenza maggiore da parte dei rispondenti nella prescrizione di dieta formulazione specialistica. Terapie prescritte al paziente critico Covid durante la prima settimana in caso di nutrizione parenterale. Quindi quando non è possibile utilizzare la nutrizione parenterale, anche qua nel 48% ha dichiarato di utilizzare una formulazione standard e nella macroarea nord è stata registrata una preferenza maggiore da parte dei rispondenti nella prescrizione di terapia standard di nutrizione parenterale rispetto alle altre macroaree. In caso di dimissione abbiamo chiesto se ponessero all'attenzione del reparto accettante il problema nutrizionale. Bene, qui gli intervistati sono divisi quasi equamente, cioè il 49% ha detto di no e il 51% ha risposto di sì, nel senso che sottolinea il problema in cartella. Invece per quanto riguarda il sostegno nutrizionale del paziente che lascia la terapia intensiva, il 55% degli intervistati ha risposto che i pazienti vengono dimessi con un supporto nutrizionale per via orale, mentre il 25% hanno risposto che avviene per i pazienti in nutrizione interale. Cosa possiamo concludere? Quali sono le conclusioni che abbiamo tratto da questi dati? Innanzitutto che i dati della survey sono sicuramente incoraggianti. Il Covid-19 nella fase 2 ha condizionato poco il trattamento nutrizionale. Nel 92% dei casi, come abbiamo visto, la nutrizione artificiale è ancora a pannaggio degli anestesisti rianimatori e speriamo che continui così. I pazienti sono stati trattati secondo linee guida ESPE nella maggior parte delle strutture e ottima la gestione del timing di trattamento. Solo il 51% ha evidenziato all'interno della cartella di dimissione il problema nutrizionale tra i problemi attivi. Questo forse è il punto su cui bisogna lavorare maggiormente prossimamente. Grazie per l'attenzione.